Fabio, facciamo il volo, eh? Vai Fabio, dove siamo? Allo Sterparo, direzione Gennaro. Vai Fabio, dove siamo? Marcellina, ragazzi, stiamo andando direzione Gennaro, Scuolo dei Cavalieri e lì giù Palombara. Ok ragazzi, allora, siamo sempre con Fabio, si vede Bracciano, abbiamo Montecelio Guidonia sotto, Sant'Angelo Romano più avanti, Palombara qui. Poi abbiamo un bel po' di cumuli bellissimi davanti a noi, veramente eccezionali. Poi abbiamo Fornetta e Gennaro, dove adesso faremo quota. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.